Dice che è un errore cercare polemiche con i comuni, servono scelte condivise. Condivise staccato naturalmente, condivise attaccato. No, tra l'altro è bello vedere come la prospettiva cambia a seconda del giro d'Italia che uno sta svolgendo, anche per esempio sulla questione di sicurezza. Fino a pochi giorni fa diciamo che Milano era la città in confronto Caracas e Razzurigo, insomma dal punto di vista della sicurezza, ma oggi a sorpresa invece salta fuori, secondo il ministro Piantedosi, che prima lo ha detto a chiare lettere, che non c'è nessuna emergenza, si verranno mandati alcuni altri agenti, mentre invece... A localmente molto mossi o agitati. Rai, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare. Wizz Air, vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Ah, che meraviglia! L'entusiasmo giovanile nel sentire la voce... Di chi? Di Luca Bottura!